Giornate FAI di primavera in 5.000 invadono Santa Caterina dello Ionio. Oltre 5.000 persone hanno fatto visita al centro storico di Santa Caterina dello Ionio questo weekend del 23 e 24 marzo in occasione della giornate FAI di primavera 2024. Il grande successo di pubblico ha premiato l'intenso lavoro messo in campo dal sindaco Francesco Severino e la sua squadra amministrativa, in eccezionale sinergia con gli uffici del municipio, i dipendenti, i ragazzi del servizio civile, la Proloco e le confraternite del territorio che hanno speso le loro energie per cercare di rendere accoglienti i vari siti e monumenti del centro storico attraverso pure il coinvolgimento di cittadini e commercianti che hanno predisposto una variegata offerta gastronomica molto apprezzata da tutti. Quella delle giornate FAI è davvero una grande opportunità per far conoscere il nostro patrimonio storico artistico-culturale oltre ai confini locali, ha dichiarato il primo cittadino Francesco Severino. L'iniziativa rappresenta il coronamento di una progettualità politica e rende merito alla virtuosa azione amministrativa che da qualche anno punta a valorizzare e rilanciare le bellezze di questo Paese. Intendo ringraziare la delegazione del FAI per la preziosa collaborazione nell'organizzare l'evento e per aver scelto Santa Caterina dello Ionio. Oggetto di visita sono stati quindi maggiormente la Chiesa Matrice, San Pantaleone, Santa Caterina, Santissimo Rosario e la Chiesa Sconsacrata, di recente ristrutturazione e riqualificazione da parte del Comune. Anche i numerosi palazzi gentilisi sono stati meta di visitatori, tra tutti il Palazzo di Francia, quartier generale dell'economia del secolo scorso in fase di recupero e dove sorgerà un nuovo polo culturale regionale, o anche il Palazzo del Borbone del Balzo, Squillacioti, oggi in concessione alla famiglia Ferri, che custodisce un'architettura del tutto originale. E poi Palazzo Giannini e Palazzo Badolato, protagonista anche il paesaggio e la natura. Tantissime infatti le attività proposte alla riscoperta dei luoghi naturali, incontaminati, che hanno coinvolto siti come l'avamposto autonomo agricolo o anche la Segna, quale sistema idraulico del passato. Spazio alla cultura e l'arte attraverso mostre fotografiche e laboratori di scultura. La bellissima Torre Sant'Antonio, oggi di proprietà della famiglia Badolato, ha pure contribuito a rendere le due giorni uniche nei suoi dettagli. Il presidio, infatti, è stato il luogo di un'emozionante rievocazione storica degli attacchi per mare e attraverso un raccorto con il centro abitato, mediante il suono dei campanili, come avveniva all'epoca dei fatti, l'intera comunità è stata allertata e messa al riparo dai nemici. Un evento che ha visto protagonisti anche i nostri giovani, ma anche tantissimi cittadini di ogni fascia d'età, ha rimarcato il sindaco Severino. Quando vi è comunità di intenti e quando tutti si sentono parte di un unico grande progetto, si può andare lontano. Oggi parte una nuova fase per questo Paese. Intendo ancora ringraziare gli alunni dei plessi scolastici, che hanno aderito insieme ai loro dirigenti e professori, le forze dell'ordine, i presidi di primo soccorso della Croce Rossa italiana, tutti gli operatori commerciali e coloro che hanno contribuito per la riuscita della manifestazione. Santa Caterina dello Ionio si è dimostrata all'altezza di grandi eventi. Il mio augurio è quello della mia amministrazione e che questo sia l'inizio di una lunga serie. Grazie a tutti per esserci stati. Domani sera uno speciale sull'evento.